Sono 184 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Abruzzo con età compresa tra 1 e 97 anni su 3.105 tamponi processati con un tasso di incidenza dei positivi che sfiora il 6%. Dei nuovi casi 61 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 31 di cui 7 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 13 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il totale di 6.534 risulta inferiore di 3 unità in quanto sono stati sottratti 3 casi positivi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 495, si tratta di una 82enne della provincia di Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.194 dimessi guariti, più 4 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.845 più 176 rispetto a ieri e dall'inizio dell'emergenza sono stati eseguiti complessivamente 250.042 test. 210 pazienti più 13 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 15 più 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 2.620 più 161 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nel totale dei casi positivi, 1.432 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 65 rispetto a ieri, 1.393 in provincia di Chieti, più 46, 2.232 in provincia di Pescara, più 28, 1.372 in provincia di Teramo, più 39, 48 di fuori regione e 57 per i quali sono in corso verifica sulla provenienza.